Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Elite Car e in compagnia di questo vento che forse farà un po' di rumore nel microfono ma ci aiuta con questa splendida giornata di sole. Siamo in Comedia di Elite Car, parleremo in questa puntata specialmente di noleggio, noleggio a breve termine, a lungo termine con delle formule davvero speciali. Ne parleremo insieme al responsabile appunto del noleggio che è Roberto, ma prima di dare la parola a te do la parola a due persone che voi conoscete benissimo, che vi presentano sempre le vetture Audi e Volkswagen naturalmente che trovate in Elite Car che sono Vittorio e Alberto per parlarvi di un'iniziativa davvero particolare sempre inerente al noleggio. Ciao a tutti da Alberto e Vittorio. Ciao a tutti. Detto questo allora proseguiamo e parliamo di un'iniziativa importantissima che riguarda il noleggio a lungo termine, però sulle macchine elettriche denominato come due in uno. Di cosa parliamo? Ovviamente è un noleggio a lungo termine che può durare 12, 24, 36 mesi su una vettura prettamente elettrica di segmento medio-alto e cosa succede? Succede che noi vediamo una macchina elettrica ovviamente coperta da tutto quello che è assicurazione, bollo, manutenzione, ordinaria, straordinaria, pneumatici eccetera, quindi copertura senza pensieri, ma vediamo la possibilità per chi magari sa il cliente che oggi dice io vorrei una macchina elettrica però ho paura perché la carica mi dà un'autonomia X quindi devo andare a fare delle commissioni, devo andare a fare un viaggio magari un po' più impegnativo e non sono magari dove vado in villeggiatura non ho la colonnina elettrica portata di mano, di conseguenza magari rimango tra virgolette a piedi, è brutto, è spiacevole. Quindi cosa fa Elite Car? Vi dà nello stesso contratto senza nessun tipo di aumento di costo la possibilità di utilizzare in un periodo la macchina anche in più volte, mi spiego meglio se questo weekend voglio andare al mare in montagna a 250 km da percorrere io prenderò una macchina a motore termico di pari segmento e la utilizzerò per il tempo che mi serve dopodiché la restituirò in Elite Car e riprenderò la mia macchina elettrica quindi secondo me questa è un'iniziativa straordinaria e molto ingegnosa che solo Elite Car è in grado di proporvi che vi fa stare tranquilli sotto questo punto di vista poi quando verrete da noi vi spiegheremo meglio i dettagli poi attenzione questa è un'iniziativa importantissima rimane sempre il noleggio a lungo termine su tutta la gamma di Elite Car su motorizzazioni, benzina, gasolio e così via e lì in questo ancora un'iniziativa straordinaria e lì il vostro usato può essere permutato come anticipo per abbassare il canone o altrimenti se volete fare canone anticipo zero possiamo pagare il vostro usato e monetizzarlo quindi voglio dire anche in questo caso secondo me Elite Car non ha rivali adesso vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso non rubo altro tempo a Roberto e passo la parola al mio collega ok oggi sono qui a parlarvi di e-company rent ok è un nuovo progetto del noleggio però vorrei specificarvi nuovo per quanto riguarda l'idea di spingerci verso l'elettrico quindi inserendo nel parco veicoli macchine elettriche ma come potete vedere alle mie spalle abbiamo anche veicoli termici come Audi Q3, CLA abbiamo anche delle Q2, dei pulmini 7, 8 e 9 posti ma vorrei specificarvi cosa ci differenzia dagli altri noleggi innanzitutto parliamo di un parco veicoli di 250 veicoli dove al momento abbiamo la possibilità di dare assistenza interna perché abbiamo carrozzeria, service e assistenza direttamente qua da noi e inoltre a breve inseriremo dei point quindi avremo dei punti di noleggio anche fuori dalla nostra sede per darvi un esempio ne abbiamo già uno a Dormelletto che è la nostra seconda sede poi ce ne saranno altri nella Lombardia fino a espanderci a livello nazionale ci terrei a specificare l'assistenza personalizzata ok quindi i veicoli sono di Elite Car non sono veicoli a noleggio sono veicoli di nostra proprietà sempre tenuti sotto controllo da noi facendo un passo indietro come vi ho detto prima inseriremo veicoli elettrici inizialmente inseriremo delle smart EQ quindi le due poste elettriche Mercedes QA e QC che possono essere anche utili per andare a smontare quella paura che si ha del veicolo elettrico quindi cosa vogliamo fare vogliamo darvi la possibilità di noleggiare un veicolo elettrico per una settimana magari per tre giorni per un weekend prima di affrontare il passo di comprare o noleggiare a lungo termine una macchina totalmente elettrica così che voi possiate diciamo rispondere a tutti i vostri dubbi ritorno sul ciclo d'assistenza nel senso che anche i veicoli elettrici sono è possibile diciamo far manutenzione qua da noi e qualsiasi domanda sulla diciamo nuova tecnologia noi siamo pronti a rispondervi vi ricordo inoltre che potrete diciamo trovarci sul sito www.ecompany.rent dove potrete direttamente noleggiare da lì e inoltre avete un vantaggio avete sempre uno sconto dedicato rispetto a noleggiare l'auto direttamente nei nostri uffici quindi vi conviene andare le macchine che troverete sono queste quindi come potete vedere sono macchine nuove ok noi abbiamo sempre un ricircolo di auto per non farle mai diventare vecchie quindi queste auto hanno due anni un anno quindi sono veramente nuove quasi tutte full optional come potete vedere abbiamo una gamma diciamo di auto veramente ampia quindi da GLA a Q3 CLA Station Vagon quindi per chi vuole affrontare un viaggio in comodità da questa parte troviamo anche un Audi Q2 che è lo sport utility diciamo per eccellenza perché è piccolo e comodo soprattutto per la città o se no come potete vedere abbiamo anche dei pulmini in questo caso abbiamo un Ford 8 posti che soprattutto nelle vacanze nei vari ponti come questo natalizio li noleggiamo sempre e qua come ho detto prima abbiamo da 7, 8 e 9 posti adesso ci siamo spostati diciamo su un parco veicoli diciamo di auto economiche quindi le classiche utilitarie come potete vedere dietro di me abbiamo una Volkswagen Up quindi abbiamo la comodità per la famiglia perché queste macchine sono 5 porte e spaziose ma poi abbiamo anche come potete vedere delle smart 2 posti e 4 posti o addirittura l'auto iconica diciamo per eccellenza italiana le Fiat 500 Hybrid diciamo queste macchine ve le voglio far vedere per farvi capire che nel parco veicoli non abbiamo solo auto di eccellenza come Q3, GLA, CLA ma abbiamo anche auto molto più comode per la città per il weekend anzi ne approfitterei per ricordarvi che abbiamo una promozione weekend di cosa si tratta? Si tratta del fatto che noi vi diamo la possibilità di prendere un'auto che sia utilitaria che sia più diciamo di livello dal venerdì mattina riportandola, riconsegnandola il lunedì mattina al prezzo di due giorni quindi praticamente fate tre giorni ma ne pagate solo due questo sempre per collegarmi al discorso di provare un'auto io voglio provare anche un'auto non elettrica ma termica prima di comprarla invece di fare il classico test drive breve dove non si ha la possibilità di capire se realmente quell'auto fa per noi la potete noleggiare per un weekend mi collego sempre a questa promo parlandovi anche degli abbonamenti abbiamo creato questi pacchetti di abbonamenti che sono dei giorni di noleggio mettiamo caso che saranno dieci giorni di noleggio da poter comprare in un'unica soluzione a un prezzo ribassato quindi molto conveniente e fisso quindi che non segue gli alti e bassi dell'alta stagione e la bassa stagione questo siamo andati a intercettare un'esigenza prevalentemente per quanto riguarda le aziende ma può essere utilizzato anche dai privati le aziende diciamo sono comode perché possono comprare a inizio anno a metà anno questo pacchetto di dieci giornate di abbonamento e quando viene la persona da fuori Italia il collega al quale bisogna dargli un'auto per muoversi nel paese che non è di sua appartenenza basta chiamarci l'abbonamento è già attivo e gli diamo una macchina senza fare pratiche diciamo ecco oltre a diciamo le piccole io le chiamo le piccole che sono le più economiche volevo anche aggiungere il fatto che abbiamo inserito nel parco veicoli Volkswagen Taigo e T-Cross sono macchine che si possono avere sia automatiche che manuali e sono macchine ideali per il viaggio perché per esempio se parliamo di Volkswagen Taigo abbiamo la grandezza di una Q3 e di una Q2 ma con un costo molto ridotto quindi per affrontare un viaggio in famiglia sono molto comode vorrei darvi anche un'idea su diciamo le tariffe di queste auto partendo dalle più piccole tenete conto che un'auto di questo livello può partire dalle 19.90 al giorno fino ad arrivare poi a tariffe più alte per auto come quelle che abbiamo visto prima di livello più alto vorrei comunque ancora ribadire il fatto che noleggiare con noi è una sicurezza perché come dicevo prima le auto sono di nostra proprietà quindi sono sempre tenute sotto controllo e possiamo darvi assistenza in qualsiasi momento inoltre negli abbonamenti oppure nel noleggio giornaliero vi possiamo offrire anche delle soluzioni di coperture assicurative diciamo senza pensieri nel senso che voi qualsiasi cosa possa succedere non ne siete responsabili ma rispondiamo noi per concludere volevo farvi diciamo trasmettervi quello che è E-Company Rent come vi ho detto nasce oggi E-Company Rent ma avrete capito che dietro c'è comunque un'esperienza di 20 anni derivante dal marchio Elite Car e quindi assistenza, carrozzeria, service tutto interno alla nostra sede E-Company Rent vuole guardare al futuro quindi inserendo come vi dicevo prima nel parco veicoli auto elettriche dandovi, e questo è molto importante la possibilità di provare un'auto elettrica prima di effettuare diciamo di comprare un'auto o di effettuare un noleggio a lungo termine e questo è molto importante perché in giro non si dà la possibilità di effettuare questo e diciamo che vogliamo aiutarvi sotto questo punto di vista vi ricordo che ci potete trovare su E-Company Rent sul nostro sito dove troverete a breve anche le auto diciamo elettriche quindi quello che volevo trasmettere è proprio questo noi vogliamo guardare al futuro dandovi una mano anche con prezzi economici bene siamo arrivati al termine di questo appuntamento non mi resta che invitarvi a prendere informazioni se avete bisogno di un noleggio a breve, medio oppure lungo termine perché sicuramente come ha detto prima Alberto Elite Car non ha rivali in questo settore un grazie naturalmente a Roberto un grazie a Alberto e a Vittorio e un grazie a tutti voi per l'attenzione ciao grazie a tutti grazie a tutti